La tecnologia va avanti ad un passo spedito diverso da quello della giustizia e spesso alcuni comportamenti dannosi non sono classificati o classificabili come veati. Infatti io ho parlato del fenomeno del Blue Whale e dei fenomeni attinenti al cyberbullismo, alle cyber molestie, nei quali la giurisprudenza, comunque il diritto ha mostrato tutte le sue lacune, ma dove anche la politica e la politica del diritto mostra di essere inadeguata per scarsità di conoscenze. E solo ascoltando, solo capendo qual è il loro agire a livello tecnologico, perché sono nativi digitali, sono nati col cellulare in mano, quindi una digitalizzazione, un uso coscienzioso di internet, un'educazione al web di grandi e piccoli e meno piccoli, comunque di giovani e adulti, sarebbe veramente la priorità per iniziare a conoscere fenomeni per cui il diritto per ora alza le mani. La nuova legge nazionale sul bullismo, specifica bullismo e cyberbullismo, raffigura la figura del docente referente, quindi dà responsabilità all'istituto scolastico, ma principalmente le famiglie dovrebbero praticare questo ascolto attivo. Facciamo attenzione, perché poi su internet si nascondono nuove insidie, l'abbiamo visto con i fenomeni di revenge porn, dove dei giovani che magari vivono la virtualità e anche una sessualità libera all'interno della rete, poi possono essere oggetto di ripicche che possono sfociare anche in atti molto brutti, quindi un uso consapevole di internet va in parallelo con pari opportunità, libertà anche sessuali dei giovani.